Sai come si chiama questo dipinto e chi l'ha dipinto? Il dipinto si chiama Meditazione ed è un dipinto ad olio del pittore francese Henri-Jean Guillaume Martin, 1860-1943. Dipinto tra il 1890 e il 1900. È nella collezione del Musée des Caours Henri Martin, a Caours. Una giovane donna dai capelli scuri, allegoria della meditazione e quindi assorta nei suoi pensieri, si staglia su uno sfondo di colline e prati indorati dal sole del tardo pomeriggio, mentre le ombre violette degli alberi si allungano leggermente. Poco in campo.